Il danno ammonta circa 7.000 euro, ma far male più di ogni altra cosa. È la sensazione di abbandono e di insicurezza. Commercianti di nuovo finiti nel mirino dei Balordi a Salerno. Stavolta è toccato al Salone di Bellezza di Rocco Casola al Corso Garibaldi. Banditi in azione, immortalati dalle videocamere di sorveglianza del negozio, mentre portavano via forbici, shampoo e piastre per capelli. Ma al microfono di 696 TV, il titolare dell'attività si dice preoccupato per l'assenza dei controlli. Si sono introdotti all'interno del salone, mi hanno rubato merce che avevamo in vetrina, piastre di una nota azienda, forbici importanti, vari prodotti. La cosa brutta è che tramite il mio sistema di videocamere sono arrivato prima io che i carabinieri. Perché, come detta dei carabinieri, questa è una piccola denuncia che voglio fare, erano due pattuglie per tutta la città di Salerno, una città di 130 mila abitanti e sinceramente credo siano pochi, pochissimi. Parliamo di una città sicura, ma sicura non lo è, perché per entrare in un negozio di parrucchiere, che voglio dire, significa che siamo alla frutta davvero. C'è stato anche già qualche altro caso di qualche collega che poi ci siamo sentiti e abbiamo fatto regolare denunce. Il problema è che, da quello che ho visto anche in cassa, hanno rubato perfino gli spicci. E questa è un'altra denuncia che voglio fare, a mio avviso credo che questo è un fallimento anche del reddito di cittadinanza. Perché se stanno rubando gli spicci, queste persone che magari potrebbero accedere a delle situazioni, non ci stiamo riuscendo. Quindi è un fallimento totale.